Allora, il mio Sanremo, il mio brano, il mio Sanremo, sono qui con Ricciolino, in casa Gali. Oggi è il primo, stasera sarò sul palco di Sanremo per la prima volta come concorrente. Concorrente si dice, giusto? E che dire, non vedo l'ora, sono molto eccitato e non vedo l'ora di portare il mio brano sul palco. Vorrei che le persone, vorrei che più persone possibili captassero il messaggio che ho nel brano. È un brano che vede me e Ricci dialogare su casa nostra, quindi sul nostro pianeta, nostro, mio e tuo, non il suo. È un brano scritto in momenti diversi, di un anno molto speciale per me. L'anno scorso, è un anno in cui ho viaggiato tantissimo e ho ritrovato me stesso tantissimo. È un anno in cui sono stato molto addolorato, io e il mio team. Tutto il team di produzione, durante i lavori alla musica, eravamo continuamente addolorati da quello che sta succedendo nel mondo. Nasce questo brano che parla un po' dei, secondo me, dei motivi per il quale alcune cose accadono.